Valido Bargal, coglie ottima partenza e va al comando nei confronti degli altri che ci si stanno sistemando e così l'allievo di Claudio De Filippo a fare andature. Partita la grande Vainagret Font che si è sistemata seconda, Lancio che se ne va in 14,8, il 9 a tabellone era ultimo, si sgrana il gruppo l'andatura di Valido Bargal e infatti diventa un gruppo molto sfilacciato, 28,8 sul mio cronometro con i nastri quindi un bel veramente andare da parte di questo targato Bargal che affronta in vantaggio la seconda curva, i 600 in 43,8 solo Vainagret Font cerca di non perdere, almeno per il momento, la scia anche se è a debita distanza. Si completa anche questa piegata, 800 se ne vanno in 58,6 e viene via e si migliora gradatamente il numero 14, Verdone Jet che parcheggia e si trascina via via tutti gli altri. Primo chilometro veramente alle 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 alle, 1,13,8 sul mio cronometro. Non l'esina andatura il buon De Filippo pigia, pigia, pigia e pigia sull'acceleratore. Cavalli a 800 metri dalla conclusione affrontano il penultimo rettilineo, sta bene anche Ulaz che si è sistemata, quarta, ma per il momento Valido Bargal è di nome e di fatto. 600 conclusivi, non avvengono variazioni, 33 questi 400 intermedi, Vainagret deve essere sostenuta, mentre Valido è in chiara fuga ma paro lontano, poi Verdone Jet e viene via la grande Ulaz. Il miglio se ne va nell'ordine dell'1,59. Cavalli al completamento della curva finale, insiste Ulaz, Ulaz vuole la vittoria, vuole la vittoria Maione, poi Vescio, Ulaz in vantaggio ma Vescio ci prova, Ulaz al comando, ultimo a fondo di Vescio, lotta incertissima, i cavalli sono in zona traguardo, Vescio al poker, nel pomeriggio del francesino. Andiamo a rivedere queste immagini, proprio sul palo, eccole qua le immagini, vedete che corsa che hanno fatto Ambedou ma soprattutto pure Ulaz, ma proprio sul palo, Vescio probabilmente batte l'avversario. Per il terzo e il quarto è andato scomparso, valido Bargal e per il quarto, vediamo un pochettino se possiamo essere sicuri, c'è un po' di foto stretta, il vichingo, poi il quindici Victor Per e sempre ancora Udini dormi, se non sbaglio, no? Di dentro. Va bene, ce le rivediamo qua ora, in questo momento. Non ci sono problemi per i primi tre, signori, mentre per il quarto e quinto è sempre meglio attendere l'arrivo ufficiale, c'è anche Udini d'ordi dentro, tre, ecco, può essere che è sesto, tu dici, Emilio? Sì, potrebbe essere sesto. Comunque, conservati i ticket, non ci sono problemi per i tre, abbiamo già annunciato l'ordine d'arrivo dei primi tre, ma la giuria, il giudice d'arrivo, completerà un po' l'arrivo ufficiale. Grazie ancora per l'attenzione, Lele e Pierfrancesco e da Napoli, sempre super special, Emilio Migliacci. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.